una vespa soprannominata killer che consente di contenere il proliferare della cimece asiatica i tecnici di tutto il territorio regionale si stanno occupando di questo problema per cercare di venire incontro alla fruticultura che negli ultimi anni è stata in parte compromessa da questo insetto alieno ne parliamo con i tecnici del consorzio fitosanitario di modena che coordinano tutta la parte diciamo emiliana per quel che riguarda il lancio degli antagonisti sono in compagnia del direttore del consorzio luca casoli anche con i tecnici stefano caruso e giacomo baccari allora inizio subito con il direttore innanzitutto facciamo una piccola premessa è un'attività che partirà tra un poco che però insomma ha avuto una parte preparatoria che è stata molto lunga innanzitutto qual è la situazione attualmente la possibilità di affrontare un programma di lotta biologica ha previsto inevitabilmente un passaggio dal punto di vista di aspetti formali legati alla normativa normativa che fino a quello che è stata la deroga prevista nel settembre del 2019 prevedeva il vieto di introduzione di specie esotiche successivamente a questa deroga è stato avviato quello che è un'iter di verifica di quello che è la fattibilità di introduzione in questo caso di trisorcus ieponicus quella chiamata vespa samurai che ha portato a quello che sono gli ultimi aggiornamenti normativi che hanno dato il via alla possibilità di richiedere quindi di procedere ad un programma di lotta biologica a livello territoriale che è quello che stiamo andando ad attuare il mondo agricolo aspettava da tempo insomma che ci fosse anche questa attività che consente di combattere il parassita con dei mezzi biologici un'attività che parte dal 2012 il periodo in cui è stata scoperta questa cimice tra l'altro proprio in territorio modenese ecco va detto che qua siamo appunto a Campo Gagliano che è un comune della provincia di Modena il fatto che sia partito appunto da Modena ha messo in condizione anche la ricerca di sviluppare qualche cosa in più no e soprattutto fare una ricerca di parassiti che erano già presenti su questo territorio lo scorso anno è stato fatto uno studio in merito che cosa avete ricercato che cosa avete trovato sì abbiamo fatto un ampio monitoraggio sul territorio delle ovature delle uova di agliomorfa alis ne abbiamo raccolte oltre 700 in tutta la regione questo studio ha visto coinvolti diversi enti a Modena diciamo siamo stati in prima linea abbiamo trovato più di 500 vatture di agliomorfa alis e abbiamo analizzato quali parassitoidi vanno a parassitizzarle la conclusione è che i parassitoidi non stanno aspettando i decreti legislativi o la ricerca nel senso che sono già attivi da anni in particolare abbiamo trovato diverse specie autoctone che gradualmente si stanno adattando tra queste cito l'anastatus bifasciatus che è il più attivo arriva a devitalizzare a parassitizzare tra il 10 e il 20 per cento di uova questa percentuale è importante interessante certamente non è non consente un controllo totale della cimice asiatica ce ne rendiamo ben conto la cosa interessante è che già a partire dal 2018 in italia sono state ritrovate anche delle specie esotiche specializzate su agliomorfa alis che arrivano proprio dall'asia dai territori in cui agliomorfa è nativa e una di queste specie è il trisolcus japonicus ovvero la vespa samurai quella che è di forte interesse per i lanci di lotta biologica ma anche un'altra specie a fine che si chiama trisolcus mitsukuri anch'essa è asiatica queste specie sono state ritrovate anche in provincia di modena la cosa interessante sarà cercare di capire come evolverà nel tempo l'azione di questi parassitoidi possiamo dire che attualmente il mitsukuri è già ben distribuito su tutta la provincia e attualmente uccide circa il 5 per cento di uova di cimice asiatica vedremo come evolverà la situazione già a partire da quest'anno e anche il trisolcus japonicus è stato ritrovato in una sola località in tutta la regione proprio in provincia di modena e quindi segno che questi insetti sono già arrivati naturalmente ma sono in una fase ancora molto iniziale quindi in qualche modo vanno sostenuti attraverso i lanci ecco vacari quando lei parla di naturalmente che cosa significa sono insetti che comunque sono arrivati in qualche modo qua in italia e a modena perché magari hanno trovato un vettore sono probabilmente arrivati attraverso scambi commerciali sono insetti molto piccoli che si rifugiano probabilmente anche nel nel terreno insomma nelle varie merci che vengono mobilitate così come è arrivato agli omor falis sono arrivati anche questi insetti è probabile che l'introduzione sia avvenuta qualche anno fa quindi insomma c'è stato una sorta di adattamento insomma di questo insetto anche in territorio che non era propriamente quello naturale allora altre due battute con il direttore casoli modena ha fatto una ricerca approfondita quindi c'è anche l'università che ha studiato su questo la professoressa maestrello ha seguito molto da vicino lo sviluppo di questo insetto è anche uno dei centri assieme all'università di modena e reggio di riproduzione di questa vespa diciamo killer sì ci siamo dovuti affidare ad una serie di partner che ci hanno dato supporto il progetto è coordinato dal regione del servizio fitosanitario regionale e dal consorzio fitosanitario sono state individuate delle risorse che hanno consentito appunto di dare supporto economico a questi partner che ci hanno progressivamente assistito in quello che è il percorso di preparazione delle uova che servono come supporto per la moltiplicazione dei parassitoidi che poi andremo ad introdurre in campo bene continuiamo a parlare adesso di cimice ma vediamo cosa succederà nelle prossime settimane quando verranno i lanci ne parliamo con caruso ma nel frattempo ci spostiamo andiamo in un'altra parte del campo la strategia di lotta contro la cimice esiatica viene quindi attuata in diversi territori dell'emilia romagna quali sono sinteticamente i metodi con cui viene appunto lanciato l'insetto e quali sono i materi e soprattutto anche un po' avere la percezione di quanti di questi parassitoidi vengono immessi nel territorio sì diciamo che il lavoro c'è un lavoro a monte abbastanza impegnativo che abbiamo proprio condotto in gran parte noi del consorzio fitosanitario con la collaborazione di agricoltori tecnici qui della provincia che ha riguardato la raccolta di tantissime cimici circa 50.000 nell'autunno inverno 2019 2020 questo è stato un lavoro molto impegnativo siamo andati a ricercarle nell'ambito di magazzini edifici agricoli eccetera tutto questo materiale è stato poi conferito a questi quattro centri di moltiplicazione che hanno prodotto hanno prodotto stanno producendo tantissime ovature siamo arrivati a circa 100 oltre 120 mila uova di cimice asiatica che sono il substrato indispensabile per per poi moltiplicare la vespa samurai la vespa samurai è già arrivata presso questi laboratori i primi nuclei e quindi il lavoro ha in corso proprio nelle scorse settimane la vespa samurai verrà poi appunto moltiplicata verranno distribuiti in provette con questo materiale e si prevede di operare in questo modo cioè noi abbiamo sulla regione di miglia romagna circa 300 punti di rilascio all'interno dei quali verranno diciamo rilasciate circa 100 individui 100 femmine con una piccola percentuale circa un 10 per cento di maschi noi abbiamo individuato questi punti ecco ad esempio in provincia di modena che è considerata una delle aree più a rischio verranno rilasciati abbiamo individuato circa oltre 60 punti quindi e in queste aree che sono comunque sempre aree boschive ad alta pressione dei cimici quindi zone che conosciamo che abbiamo conosciuto con il monitoraggio degli anni scorsi verranno appunto rilasciati questi individui sono chiaramente zone boschive non lontane dai frutteti quindi l'obiettivo è quello di inoculare fra virgolette proprio come ho detto prima il territorio e facilitare quel processo che prima di scrivere mio collega giacomo vaccari ecco sarà un processo molto lungo diciamo per per tranquillizzare anche insomma i nostri produttori quanto tempo occorrerà finché diciamo sia efficace questa lotta biologica contro la cimice dunque a dire la verità non abbiamo dei dati certi anche altre esperienze fatte in altri ambienti ad esempio negli Stati Uniti questo programma è già stato avviato qualche anno fa ma ancora non abbiamo una risposta certa ci aspettiamo di avere qualche risultato interessante che nel giro di tre quattro anni ecco direttore questa vespa vespa killer un nome un po sinistro insomma qualcuno si è preoccupato ci sono problemi di fra virgolette contaminazione dell'ambiente di questo insetto che non è autottono è pericoloso per le api è pericoloso per le persone siamo di certo sicuri nell'affermare che dal punto di vista dell'uomo non esiste alcun pericolo come pure non esiste alcun pericolo per i pronobi in particolare per quanto riguarda le api mentre relativamente ad altri rincotti altri pentatomidi è stato valutato quello che è il fatto di una spiccata preferenza proprio per cimice asiatica pertanto sono state già fatte queste valutazioni ci sentiamo di rassicurare da questo punto di vista anche perché senza queste valutazioni non si sarebbe avuto da parte del ministero dell'agricoltura e del ministero dell'ambiente via libera per questo percorso di lotta biologica direttore un'ultima domanda il primo lancio quando ci sarà naturalmente dovremo andare ad introdurre adulti di vespa samurai nel momento in cui avremo la massima presenza di uova questo comincerà con la prima generazione indicativamente con i primi giorni di giugno comunque la prima dalla prima settimana di giugno per poi avere un secondo rilascio programmato per la seconda generazione quindi indicativamente nel mese di luglio ma naturalmente vi aggiorneremo grazie al direttore tecnici del consorzio fitosanitario di modena e reggio noi proseguiamo dopo un po di pubblicità con i frutti della terra grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.